Radio Radicale, siamo col senatore Manfredi Potenti, membro della Commissione Giustizia del Senato e vicepresidente dell'Aggiunta delle Immunità e delle Elezioni, per parlare con lui della situazione delle carceri. Allora, molte carceri indubbiamente stanno esplodendo, abbiamo visto quello che è successo al carcere minorile Beccaria a Milano, oggi ho visto che lei ha fatto un intervento di fine seduta e appena la seduta è finita ci siamo incontrati, le volevo chiedere conto di questo. Allora, che cosa sta succedendo nei carceri italiani che stanno esplodendo letteralmente? Il caso del Beccaria emblematico, un'ala che si stava costruendo, che insomma era ferma da diverso tempo, detenuti giovani ragazzi che hanno bisogno di un sostegno psicologico per andare avanti e questi scontri tra gang all'interno del carcere. Allora, che succede? Volevo sapere se lei è preoccupato e come si sta procedendo, visto che dal 1 gennaio torneranno parecchi detenuti in carcere che hanno finito il regime agevolato dal Covid. Allora, la situazione è senz'altro preoccupante, non si parla più soltanto di casi episodici ma quotidiani. La notizia, ad esempio, di ieri durante una traduzione da Spoleto a Massa, un detenuto straniero che è appena arrivato nel carcere di Massa, ha sferrato un pugno a un sottufficiale. Quindi ci sono delle situazioni che quotidianamente ci rappresentano la difficoltà di gestione delle risorse umane all'interno delle strutture carcerarie, per lo più aggravate dal fatto che alcune modalità detentive come quella delle cosiddette porte aperte all'interno delle strutture stanno di fatto trasformando quelle che erano delle aree detentive che corrispondono alle celle, invece ad open space nei cui spazi appunto si creano naturalmente delle aggregazioni pericolose che il caso di Pisa dimostra. Questo è un po' il modello americano? Negli Stati Uniti si fa così? Il modello americano che noi peraltro non è che censuriamo nell'una o nell'altra versione. È chiaro che le strutture detentive come modelli architettonici che fino ad oggi abbiamo utilizzato in Italia non sono adatte per sopportare eventuali rischi derivanti da questo modello open space. Ora, la criticità ulteriore è il fatto che all'interno di queste presenze umane che sono i detenuti ci sono anche delle persone che dovrebbero essere invece assistite all'interno di strutture in realtà medico-psichiatriche ovvero sia le vecchie carceri che non esistono più, le REMS o quelle che potranno essere nel futuro oltre a questo un evidente numero insufficiente di personale rispetto a quello che è il fabbisogno o la pianta organica se mettiamo insieme tutto questo a regole del tutto astruse, faccio il caso di una ispezione straordinaria per la ricerca di droga che necessita dell'avviso al garante dei detenuti prima di essere sviluppata beh, voi capite che la realtà detentiva non è più tale ma si tratta in realtà di qualcosa di diverso che sta continuando a svilupparsi e esercitarsi attraverso normative e realtà detentive che non corrispondono più a quelli che poi potrebbero essere i diritti che quotidianamente vengono riconosciuti al detenuto quindi le cose sono due, o andiamo verso una modalità di detenzione diversa quindi individuando anche strutture diverse con spazi evidentemente non più progettati come 20, 30 o 50 anni fa o forse anche posso dire 300 o 400 perché in Toscana provengo da un territorio in cui si utilizzano fortezze spagnole o beni addirittura risalenti all'epoca medicea è evidente che queste non possono più essere considerate delle carceri utilizzabili per questi fini la polizia penitenziaria è sottoposta quotidianamente ad aggressioni e diciamo episodi che attestano che non si può più in qualche modo continuare a tollerare il margine di rischio altissimo che ogni giorno dobbiamo invece sopportare in tutte le strutture detentive non ultimo anche gli episodi di cui lei citava prima il fatto che adesso centinaia di detenuti ritornino in carcere il primo gennaio lei trova che questa sia una follia rispetto all'esperienza che hanno dato questi detenuti che mi sembra che sia positiva, io non ho sentito di nessuno che è fuggito insomma questo poi espone il carcere a un peggioramento della situazione e poi le volevo chiedere se la funzione ed educativa del carcere che secondo molti è stata negata nel decreto RAVE per la parte dell'ergastolo stativo stia facendo accumulare altri errori allora intanto per quanto riguarda la questione che lei stava rappresentando evidentemente ci sono delle esigenze che stanno cambiando anche rispetto ai tempi di detenzione alle modalità detentive abbiamo concesso delle misure straordinarie dovute, nate diciamo nel contesto dell'emergenza Covid per consentire a dei soggetti a rischio di rientro nelle strutture perché avrebbero potuto generare dei casi appunto di focolai infettivi dentro le strutture di rimanere all'esterno in una sorta diciamo ecco di periodo transitorio in cui avrebbero potuto continuare ad abitare ad esempio in domiciliare o a sviluppare attività lavorativa esterna con il rientro in carcere ma con evidentemente un punto di appoggio esterno adesso c'è ahimè questa scadenza di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi in Commissione Giustizia avevamo già vissuto una situazione simile quindi è evidente che ahimè il poco tempo disponibile ci costringerà a riallocare questi detenuti nelle loro sedi di provenienza il problema più grande invece relativo anche poi alla questione del gastro allostativo che peraltro riguarda insomma un numero molto limitato di detenuti per gravissimi reati è quello poi di consentire che anche questi ultimi come ci ha detto la Corte Costituzionale possano fluire di un momento di disamina effettivo e non presunto sia nel senso diciamo di una collaborazione che non di per sé significa aver in qualche modo abbandonato i legami originali con le realtà criminali così come la mancanza di collaborazione non può di per sé significare diciamo la negazione di quei benefici che invece fanno parte di un percorso trattamentale è evidente che ecco tutto questo significa dover rivedere complessivamente non tanto e solo la diciamo materia codicistica sostanziale o processuale ma anche la normativa esecutiva quindi quella processuale afferente all'esecuzione della pena semmai e poi tutto l'ordinamento penitenziario che ricordo già dal 2018 quando arrivai in Parlamento alla Camera era oggetto di una riforma che poi si arenò almeno per la gran parte se non per alcune norme che riguardavano la parte sanitaria in gran parte evidentemente ancora ad oggi non se ne è più riparlato però reputo che con la continua con il continuo aumento ad esempio dei massimi delle pene dittali delle riforme convulse che abbiamo fatto in questi anni bisognerà riparlare se non altro ecco di quel limite dei quattro anni oltre il quale ahimè insomma parte la detenzione carceraria nel caso di esecuzione pena dobbiamo ecco esaminare anche la presenza io l'ho ricordato al ministro nordio in commissione giustizia di strutture che sono dei modelli di eccellenza come ad esempio il carcere di Gorgona che è una sezione distaccata del carcere di Livorno dove si sviluppano attività lavorative all'aperto in una situazione di assoluta sicurezza per la detenzione carceraria ma diciamo rivolte ecco a detenuti che vogliono svolgere attività lavorativa in complessi che sono ex colonie penali agricole che potremo esattamente replicare in tanti altri bellissimi luoghi d'Italia. L'ultima domanda in che misura ritiene grave l'episodio del beccaria non tanto per la fuga che è l'ultimo capitolo della vicenda ma per tutta la situazione complessiva? Guardi allora si tratta evidentemente di un casus più unico che raro perché non mi risulta che negli ultimi anni siano avvenuti episodi simili è chiaro questo è un fatto che può accadere nella normalità e nella quotidianità il fatto grave ecco è che ci sia purtroppo anche questo sodalizio che si sviluppa all'interno della struttura carceraria che possa convincere non uno ma sette persone a darsi alla fuga poi magari c'è un atto di restificienza uno ritornano due vengono convinti dai familiari ecco e gli altri insomma sono sempre uccelli di bosco salvo ora che nelle ultime ore qualcuno sia stato ripreso preoccupa il fatto che si tratti di giovani che soprattutto a questi debba essere destinato un percorso rieducativo e che ahimesso ma queste strutture detentive per minori non svolgano evidentemente questa finalità diciamo sociale. Bene la ringrazio molto per la sua disponibilità grazie come sempre al senatore Manfredi Potenti della commissione giustizia del senato e vice presidente della giunta delle immunità e delle elezioni del senato grazie 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 grazie